guardia su un po più avanti dalla testa se sono affrontati bella Alessio il peso avanti lo devi tenere serie da 4 bene buono circolare meglio dopo aver messo il montante devi cercare di fargli rimanere il braccio in mezzo alle tue due braccia non ci vincere babam scrivi montante subito sulla guardia quando mettiamo il circolare forte sto calcio apri le gambe e sblocca il bacino frustate il corpo e spinge buono c'è il busto un po indietro il naso in linea con l'alluce e ce l'hai molto c'hai a 20 cm il naso e quindi sei bilanciato indietro così guarda tu sempre sempre dalla guardia iniziale così questo è il lavoro che devi fare sentire sta carichi col所 circolare og oh no